sì sì apparentemente ferma appunto poi dentro scorre ci scorre di tutto ma grazie all'arminuta lei si aprirà un po e capirà che quella che quella ragazza lì è riscatto probabilmente la sua fragilissima voglia di vivere probabilmente non dico che riesploderà ma farà capolino da qualche parte vanessa a volte si dice così per dire l'attore da corpo il personaggio ma lei l'ha dato in una maniera secondo me straordinaria ci sono cose non previste da me né dalla sceneggiatura che le ha fatto entrare nel film faccio un esempio la camminata della madre no mi ha veramente commosso tanto vedere questa donna che anche aveva avuto sei figli forse sette perché raccontiamo che uno l'ha perso e come cammina lei nel film lei continua a camminare anche come se fosse gravida e queste sono come dire copyright vanessa scalera ci tengo a dire ma insomma è una delle tante delle tante dei tanti doni che ha fatto dando corpo a questo personaggio sono i tuoi veri genitori ti vogliono bene ti aspettavano sono qui perché mia madre sta male ma lei non sa come sta non lo faccio più ho sempre detto in ultimo penso che non è mai il destino che si mette contro il nostro volere ma viviamo in mezzo agli altri tra gli altri e abbiamo obiettivi che spesso confliggono tra di loro per cui non farei un discorso wagneriano di destini diciamo che come dire incomodano nelle vite dei personaggi ma direi semplicemente che sì invece è vero quello che dici c'è un film anche sulla paura dell'abbandono ma è anche un film sul bisogno degli altri ed è un film anche sulla incapacità di esprimere bisogno degli altri per me parlo da spettatore mi astraggo da regista i momenti più intensi del film sono i momenti in cui i personaggi anche solo per un attimo si sfiorano si toccano e lì proprio per la natura di tutti loro di esprimere di avere un lessico degli affetti nel momento in cui questo avviene ed è flagrante naturalmente si più che destino io chiamerei scelta e azione nel film i personaggi scelgono compiono delle azioni e quindi poi ricadono su le due piccoline soprattutto sull'arminuta non chiamerei destino ecco forse è preciso meglio la cosa la cosa che si avvicina di più a quello che tu chiami destino ma non è quello ecco quello sì che va di là dei personaggi è che comunque tutti loro sono il frutto di una catena di affetti che parte da lontanissimo e quindi forse quella è l'unica cosa che influisce su come agiscono questi personaggi che non dipende da loro